la pasta torchiata al momento e non ancora essiccata è secondo me una delle cose più buone al mondo, la consistenza che ha è imparagonabile, che tu faccia degli spaghetti alla chitarra, che tu faccia dei maccheroncini, insomma qualsiasi tipo di pasta torchiata al momento con qualsiasi tipo di farina è senza pari. se vuoi scoprire come realizzare i miei spaghetti torchiati con farina di ghani antichi alle bombole e crema di prezzemolo guarda nel primo commento per poter accedere al webinar gratuito